La volta buona. Paola Barale ha tradito Gianni Sferti con Raz The Gun La volta buona. Il programma condotto da Caterina Balivo, sarà in onda anche oggi 3 maggio dalle 14 alle 16 su Rai con tantissimi ospiti In questa puntata ricca di sorprese, non mancheranno le curiosità sulle relazioni di Paola Barale e Raz The Gun Scopriamo insieme cosa ci riserva questo appuntamento da non perdere Un appuntamento da non perdere è sicuramente la volta buona. Il programma condotto da Caterina Balivo che andrà in onda anche oggi 3 maggio dalle 14 alle 16 su Rai Questo show promette di regalare due ore di intrattenimento e spettacolo, con tantissimi ospiti che renderanno la puntata ancora più interessante Caterina Balivo, con la sua simpatia e professionalità, saprà coinvolgere il pubblico e regalare momenti di leggerezza e divertimento La volta buona è un'occasione perfetta per trascorrere un pomeriggio piacevole davanti alla televisione, godendosi una programmazione ricca di sorprese e intrattenimento di qualità Gli ospiti imperdibili di oggi. Una puntata ricca di sorprese La puntata odierna de. La volta buona, condotta da Caterina Balivo si prospetta imperdibile, ricca di sorprese e ospiti speciali Durante il programma, che andrà in onda oggi 3 maggio dalle 14 alle 16 su Rai, sono attesi numerosi personaggi di spicco Non si sa ancora chi saranno gli ospiti, ma la curiosità è alle stelle La Balivo è nota per la sua capacità di creare un'atmosfera vivace e coinvolgente, e non deluderà sicuramente i telespettatori con questa puntata ricca di sorprese Sarà interessante scoprire quali volti noti si uniranno alla conduttrice per discutere di temi attuali e intrattenere il pubblico Le curiosità sulle relazioni di Paola Barale e Raz Degan Paola Barale ha sempre sottolineato che la relazione con Raz Degan è cominciata dopo la fine del matrimonio con Gianni Sperti Tuttavia, ci sono state molte curiosità riguardo a queste due relazioni Molti si chiedono se ci sia stato un sovrapporsi tra il matrimonio di Paola Barale e l'inizio della storia con Raz Degan Alcuni hanno ipotizzato che potrebbe essere stata una delle cause della separazione con Gianni Sperti Inoltre, c'è stata speculazione sulle dinamiche della relazione tra Paola Barale e Raz Degan Con alcune voci che suggeriscono che sia stata una storia intensa e passionale Queste curiosità alimentano l'interesse del pubblico verso le vite private dei personaggi famosi Inoltre, c'è stata la base dellaこんにちは L'aventura, c'è stata un'altra